Allora, siamo qua con Chiara. Allora, Chiaretta, bruciapelo, ragazzi che ci provano da ubriachi in discoteca. Cioè, io ho avuto anche amici che se non si scolavano 5, 6, 7 cocktail, ti giuro, non riuscivano neanche a dire ciao a una ragazza. Qual è il tuo rapporto con questo concetto generale? Tu frequenti le discoteche? Sì, mi capita, non sono una che va tutti i weekend, però comunque ci vado spesso, abbastanza, da ventenne. Come? Da ventenne, giusto da ventenne. E che succede? Ok, ti approcciano... Si, è capitato che i ragazzi totalmente ubriachi, fuori di sé, nel senso che avevano già abbastanza bevuto, hanno... si sono approcciati in una maniera abbastanza molesta, mettiamola così. Addirittura? Sì, nel senso, no, nel senso niente di grave, però comunque che incontri in un bar non lo farebbero mai, non c'è quella nonchalance, diciamo. Quindi, mi viene da pensare che gli approcci, comunque le conoscenze, iniziano non subito, giusto? Cioè durante la serata, perché devono avere... Esatto, c'è il dopo. Il prima è tutto un essere timidi, essere un po' titubanti ad avvicinarsi alla persona. E poi quando l'alcol comincia a fare il suo effetto, inizia, non lo so, qualche ragazzo a provarci o comunque fare la prima mossa, come sempre è. Cosa... cos'è la cosa che non sopporti? Eh, proprio questo, il fatto di essere... Tre cose mettiamo dentro. Cioè, tre approcci, tre modi di fare, delle persone ubriache, marce, che appunto tentano una conoscenza. Allora, sicuramente essere invadenti, che così dal nulla magari spunti e... cioè non ti conosco, perdonami io questa cosa che non conoscendo non do tanta confidenza. Ok, quindi essere invadenti. Sì, quello sicuramente. Ok, ma sia dal lato verbale che dal lato di contatto fisico? Sì, 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 che magari dici guarda, allontanati, ci sono altre mille ragazze. Ok, quindi invadenza primo. Sì, invadenza primo. Poi ci sono anche ragazzi che sono un po'... che sono... non mollano mai la presa, mettiamola così. Insistenti. Sì, che non mollano mai, diciamo, che finché non li dai retta sono lì o solo a guardarti o a starti vicino. Madonna, solo a guardarti. Sì, 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 sì. È brutto. Me l'immagino, tipo, hai con la mano in tasca. No, con la mano in tasca è proprio brutto. Insistenza. Capita, capita. Ok, terza. Terza. Se non sono insistenti, non sono invadenti, hanno un qualcosa che, non so, nel lato verbale ti, non so, provano a bacia. Sì, allora si basano sempre ovviamente sull'aspetto, ciao, bella, ciao, sei soliti complimenti che si basano solo su quello. Diciamo che non c'è filtro, ecco, essendo ubriachi non c'è filtro in quello che dicono. E quindi anche questa cosa mi dà fastidio, però d'altronde se vengono in una discoteca non puoi trovarti gente che studia e sta lì col suo computer. Quindi è normale da una parte. I nostri studenti quando vanno in discoteca io proibisco nei weekend, io lavoro molto in discoteca nei weekend, proibisco l'alcol. Cioè gli dico ragazzi bevete un drink fine, proprio perché comunque non voglio, cioè se uno diventa bravo o comunque è bravo da ubriaco è un conto. Se uno è bravo a socializzare da sano è un altro conto, un altro paio di maniche. Certo, certo, assolutamente. Ok, quindi la tubriachezza. Tu, tubriachi di discoteca, bevi? Non fino a non essere cosciente, mettiamola così. Cioè sì, magari quel drink in più che mi stona o mi fa un po' girare la testa, ma odio perdere il controllo, di non sapere di quello che possa succedere in qualsiasi momento. Non tanto perché io non ho freni, ma per le persone intorno comunque. Non conoscendo le persone ovviamente cerco di almeno difendermi io dagli altri. Sei abituata a fare il primo posto in discoteca? Se ti piace qualcuno vai non vai, se vai vai bevendo? Sinceramente non tanto, non mi è mai capitato che approfittando del fatto che sono a ballare con le amiche vado da un ragazzo. Non perché, detto sinceramente, gli approcci in discoteca li vedo più occasionali che dove ci sia la possibilità di poter instaurare un rapporto. Ok. Perché ovviamente non è il contesto in cui si può chiacchierare, si può condividere idee, si può comunque instaurare un rapporto diverso. Ma perché di base tu non hai mai avuto modo di conoscere una persona che avesse cervello e quindi ti fornisse una conversazione appagante in discoteca? No, non mi è mai capitato, purtroppo no. Se l'avessi provato magari cambia idea. Quindi tutti, cioè quando ci provano sono tutti alticci? Sì, sì. E poi se dovessi conoscere qualsiasi persona è per quella sera, nel senso poi non ho mai avuto situazioni in cui poi instauravo un'amicizia. Ma perché di base queste persone non c'era quel feeling da dire ok, sentiamoci anche fuori? Sì, ma più che altro non lo trovi nemmeno il feeling, perché comunque con la musica alta, l'alcol, le persone, non è che trovi tanti interessi, tanti hobby o qualsiasi altra cosa. Nivello basso, insomma. Sì, cosa fai nella vita, come ti chiami, quanti anni hai, le cose giuste per sapere chi sei un po'. Cosa pensi tu delle persone che arrivo, devo bere per poter andare? Cioè che come li vedi? Cosa pensi? E penso che sia un po' triste, nel senso, per carità, ognuno ha il suo carattere, c'è chi è estroverso, chi è introverso, questo ci mancherebbe. Però trovarlo come metodo, come soluzione per conoscere le persone, lo trovo triste perché è futile, non ti porta a nulla, soprattutto se le ragazze, come ad esempio me, non sono interessate a voler conoscere in discoteca. Perché si sa che le relazioni non nascono in discoteca. Non ti porta molto a... Odia morte! C'è proprio la discoteca e la odi! No, no, mi piace. No, dico sul discorso. Però non mi piace che diventa un sito di incro, un contri, ecco, capito? È un posto dove in teoria è nato per andare a ballare, per divertirsi con gli amici e quant'altro. Quindi mi sembra un luogo di siti di incontri, non so perché. Voglio conoscere un ragazzo che si è andato a ballare per divertirsi e non per conoscere ragazze. Ok. O ragazze uguali, non è che... non c'è differenza. Ok. Nella tua esperienza hai mai dato retta a ragazzi che ci provavano da alticci? Sai, magari è alticcio però ha comunque quella parvenza di lucidità e quindi ancora è... Sì, che sa sostenere un dialogo. Sì, sì, mi è capitato di chiacchierare, avere un dialogo, però ti dirò è sempre stata una cosa successa alle Immortaline. Non si è poi mai instaurato nulla di profondo, diciamo. Sì. Sì, quindi mi è capitato però rimango sempre un po' dell'idea che è un po' difficile in contesti così poter instaurare. Magari... no, a me non è capitato, però può essere magari anche possibile che conoscendo una persona magari è bella e vorrei conoscerla interiormente. Ok. Scambio il numero e due giorni dopo o qualche giorno dopo vado a bere un caffè. Capitato? No, a me no. Devastante. No, vabbè, ma non... non è devastante nella mia vita, no. Ma dico devastante, cioè... dove prediligerlo ora? Dove incontri se incontri? Dove ti piace conoscere università? Sì, amici di amici o magari se ho un hobby lo condivido con qualcuno che fa il mio stesso hobby. Comunque su cose che fai di tuo interesse e persone che magari hanno i tuoi stessi interessi. Quindi in situazioni così. Poi io non sono una che cerca molto le situazioni come in discoteca, di voler approcciare. Non è il mio pensiero fisso. Quindi... Non è una priorità in questo momento, non ci pensi? No, ma in generale. Se deve capitare, capita. Se no, se è troppo cercato poi è... è troppo, non so come dire. Sì, 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 sì. Cercato non è vero magari, non è quello che doveva nascere. Ok, belchezza molesta, va bene. Ok. Come dovrebbe esordire una persona sana, lucida, secondo te, per conoscerti in generale in discoteca? Eh, bella domanda. Ti propongo uno scenario. Sei sui divanetti, quindi si può parlare, non sei in pista. Come dovrebbe palesarsi un uomo, un ragazzo per, diciamo, creare curiosità di base? Cosa dovrebbe dirti? Cosa dovrebbe far leva? Che ne so, un dettaglio di quello che stai facendo, inserirsi in un discorso, cioè, magari origlia, che ne so, magari tu, che ne so, stai dicendo alla tua amica, eh no sì, però, vabbè, è andata così, chi se ne fotte? Quello entra dentro improvvisa. Non è male, diciamo Dio, sembra un po' da stalker che si mette lì con l'orecchio ad ascoltare, però già come inizio non mi sembra male. No, nel senso, passa, passa e ti butta dentro questo, intendevo, ok. Però voglio sapere da te quali sono le frasi o i modi per poter iniziare una conoscenza da sani. Da sani, eh, insomma, sì, unirsi a una conversazione non mi sembra brutto come modalità. Come anche presentarsi, non lo so, alla sigaretta, o ciao, come ti chiami, piacere, comunque io sono Filippo, Filippo. Ok, ti piace che abbia una motivazione dietro? Sì, sì, perché una persona che arriva e mi dice, ciao, sei bellissima, posso conoscerti, non lo so, mi inquieta, nel senso... Ok, io lavoro molto anche a teatro, io ho avuto alcuni insegnanti di recitazione che professavano questo, e io trovo molte analogie, discorso recitazione, teatro, discorso poi con le ragazze. Provo il discorso motivazione, cioè a teatro dicono che quando tu fai un'azione, qualunque essa sia, prendo una sedia, sono arrabbiato, devo essere arrabbiato e devo sbattere una sedia. Devo avere la motivazione reale che mi porta a fare un'azione, perché il pubblico vede che sto spostando la sedia in maniera arrabbiosa, ma non c'è dietro una motivazione. Con le ragazze dico sempre che è la stessa cosa, cioè quindi darti una motivazione perché io sono qua. Secondo te quindi è una cosa coerente? Cioè anziché dirti ciao, piacere, Giovanni, fine. Sì, rimango lì, dico ok, ciao, non so perché sei qui e perché ti sei presentato. Già hai una sigaretta o non lo so, conosci persone, altre persone, altre amici, ah tu sei l'amica di… già c'è un po' più di interesse, comunque un po' più di stimolo. Una persona che arriva di punto in bianco, che non ho mai visto nella mia vita e mi dice ciao, piacere, io sono Filippo e così io rimango… Tanto poi da te ha piacere chiara e poi deve produrre qualcosa perché tu sei… Esatto, sì, come mai sei qui? Chi sei? Capito? Ma tu lo fai? Cioè dai… lui arriva, si presenta, tu poi dai input? Non più di tanto, cioè sono chiara. Perché? Non più di tanto, sono chiara e basta. Sei chiara in tutti i sensi. Sono chiara. Ok, quindi presentarsi così. Quindi alla fine è parte sana e semplice. Sì, sì, sì. Beh io non… Cioè alla fine mi hai detto un approccio, un modo di conoscere molto… molto marcio, cioè nel senso molto marcio in chat. Attenzione a te marcio sta roba qua, sappilo. Sì, certo. E lo sai, cioè dai, non è confidenza. La parte però dal vivo, secondo me magari detta con energia, con un sorriso, questa parte semplice può fare colpo quindi. Semplice intendi che arrivi, che fai un complimento. No, 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 semplice come mi hai detto, ciao guarda, passando, mi hai incuriosito, sarà non so il look o l'energia che emani, piacere. Sì, 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 questo lo trovo più carino come modo di approccio. Il arrivare, non ti conosco e inizi a fare domande così… Da ubriaco poi? Sì, no, vabbè, ubriaco sì, no. Lo riconosci subito? Anche dall'odore, perché l'alcol si sente. Sì, sì, esatto. Poi se ti parlano da vicino per sentire lo senti subito. Senti proprio i negroni che escono. Senti, sì. Parla, i negroni si appoggiano su… Piacere, alcol. Ok, va bene, ci siamo. Avevo un'altra domanda, però mi è sfuggita, perché sono un po' ubriaco. Ok, ragazzi, da me e Chiara, Chiara è una giusta. Giustissima.